Ciao a tutti ragazzi, grazie a questo corso sono finalmente riuscita a superare il concorso allievi agenti della Polizia di Stato, realizzando finalmente quello che era il mio sogno. Consiglio sicuramente a tutti di frequentare questo corso, poiché sicuramente si sviluppano al meglio quelle che sono le proprie abilità relazionali e si aumenta il proprio livello di sicurezza. Questo sicuramente permette di arrivare maggiormente preparati il giorno del concorso e quindi affrontare serenamente il colloquio con lo psicologo e con il perito selettore.